Ministro, lei ha accennato prima, lei ha detto che questa vicenda ha turbato profondamente la vita di tante persone. Ecco, si sente di chiedere scusa a chi? Guardi, la prima persona a cui devo chiedere scusa, perché poi è una persona eccezionale, è mia moglie. Poi chiedo scusa a Giorgia Meloni, che mi ha dato fiducia per l'imbarazzo che ho creato a lei e evidentemente al governo. Chiedo scusa anche ai miei collaboratori, che impropriamente, pur non avendo fatto niente, si trovano investiti da questa vicenda. Ieri sera hai incontrato il Presidente del Consiglio, che cosa le ha detto? Beh, la prima cosa che le ho detto è che io sono disponibile a dimettermi un minuto dopo che lei me lo chiede. Poi, le ho anche detto che però, e l'ho rassicurata anche con le prove documentali, che questa è tutta una vicenda di gossip, che mi rendo conto è fastidiosa, ma che, le ripeto, non un euro dei cittadini italiani è stato mai speso in questa vicenda. E nessun documento riservato o classificato o comunque inerente attività delicate è mai circolato. Il suo pensiero alle dimissioni c'è ancora o no? Al momento il Presidente del Consiglio mi ha detto di andare avanti e di chiarire bene, in punto di verità, mi ha detto sì, sempre sincero e di sempre la verità. Grazie.